non so se sapete quando i vitelli sono troppo ci sono talmente tanti che c'è a succhiare il latte che finisce con i succhiali pure il resto della madre guarda la quanti ce ne sono la qui stanno quei cinque scassa cazzo spito qua no e qua c'è stato questa si che è una buona mamma a quanto stai allattando amici guarda pure quello nuovo e tutti quanti quanti ne sono contiamone un po 1 2 3 4 5 6 7 eh povera cazzo con tutti i magelli che vanno dato che pazienza c'è questa povera ragazza siamo pure quelli più grossi che non c'è che non so manco figli suona guarda questa povera cazzo no guarda quanto c'è ne sono sotto 1 2 3 4 5 6 7 con quell'altro ultimo il dietro è rovesciato l'orecchetto mi fanno sicuro questi cazzo Ciao.